sì abbiamo iniziato gindobre in cento apre di stasera latina gindobre monica atina e la amica vai diccelo diccio gindobre fai anche lo spelling di gindobre vai a diventare tanti dn top bene 5 4 3 2 come la vedi la vedo che sta camminando sopra una spirale e vede a chi già poi che gli spirali cammina dalla parte più esterna della spirale per andare verso il centro e mi ha giocato lo spera l'auditerno ci mi ha già traspargico si raccogli dall'autorizzazione in Italia posso fare la nostra sia sì è molto pensierosa ma dice di sì ok questa è la seconda sessione di atina tra il trucaio stasiatina come la vedi in generale direi che non vediamo in fermento in ebollizione perché c'è la tua stagna progenia tante cose che le frullano per la testa e nelle vene nel sangue ma parte c'è un attimo non vi sento più io ti sento monica non sentiamo ok mi vedete male vero no io ti è stata pena io ti ho fatto vado a tutti ci senti lucio si male c'è una connessione pessima mi sentite se svegliate santa benissimo ok vibrazione unica via case di braziati in 40 miliardi star gesti miliardo consapevolezza facciamoci fata mostri 167 per cento stossi di san siedem pro tanto ps basa un prozento vedo 45 per cento star gesti pian però tanto sarà stando vite precedenti ma ritrovo 917 givenza c'è da nasce cioè quello portando giovane con musco oppure ma non puoi ripetere non ho sentito virgola 3 si ho sensazione che c'è pro tanto ok se non avesse fatto la prima sessione a quanto sarebbe la vibrazione giovane venivate i pop shot in sessi tagli la più conoscivo i vibrazia terrasse 6 7 miliardi 6 miliardo io non ricordo quanto è passato però almeno tre mesi giusto da cosa mi sentiamo bevata un passaggio ma i miei pieni 5 ok in generale la vedi di nuovo interferita c'è attacco con un passaggio ma che si interferenze sono tipo come un piccolo grillo se fosse il grid solo questo c'è taccato come se forse lo parlante di pinocchio bra santa nuove ansia spinocchia quindi apparentemente le fa sembrare che è la sua ps di antica dieta che potrebbe la dosa ma si tratta di un'interferenza l'insettoide a lei è stata interferenza che c'è il sector it ci sono entità mentali c'è stata mentale ne vedo una livello due e mezzo il senso il senso il senso il senso lei va alla ricerca del senso della vita del senso delle cose questo lo porta vedo ad esplorare anche dei terreni interferiti è la ricerca di comprendere come stanno le cose di trovare un senso unitario alla vita interrogando per avere queste risposte più il fuori che il dentro il senso bargei la legge la frisca e petani a bargei sciocate il corpo vagina serve non c'è sopia ok ci sono enti da mentali è stata mancarla questa che abbiamo appena detto di livello 23 si intercattava minona solo questo sì perché è da questa che nascono poi tutti gli altri dubbi le incertezze curiosità tachito otto che state potenziare ossia scrivendo le voci città fruttatoi cerca la vostra comma c'era è arrivata dopo la prima la prima sessione cinque mesi fa questa sessione questa interferenza mentale e se sì in che occasione è una sua tendenza voler sapere conoscere lei è sempre stata molto curiosa di conoscere lavori energetici di vari operatori in questo momento mi è venuto in mente che il suggerimento finale della sessione era di astenersi per un po' di tempo dal sentire questi video di questi operatori ma lei sta cercando ancora delle risposte e in qualche modo spera di trovarli attraverso questi operatori in effetti una gran parte delle domande che faremo sono relative ad altre persone anche lei segue e faccia che ci sono in questo modo da un'altra domanda che ci sono queste persone due in particolar modo due operatori un uomo e una donna hanno una forte affinità con lei da una parte c'è il tema del guerriero come architipo dell'altra parte l'altro tema è l'intelligenza artificiale a drugi temati che sono due temati che nell'altra sessione per esempio erano fusi insieme c'era la presenza di un clone guerriero dovata ma per costa che o clonava iornica quindi intelligenza artificiale più componente guerriera insieme cioè l'intelligenza intelligenza plus ten tanti che vogliono iornica pontone vienno queste sono due persone che lavorano insieme oggi tutta la triassa vettore apprezzano rasa questa da questi due operatori manda lucio non ho capito di chi stiamo parlando allora dunque stiamo parlando di due operatori che lei segue lo sapete a casa concreta con il canale youtube no oggi tutta la mappa dell'aldilà no ma quello della mappa dell'aldilà no non ho già notte copano proiezione strana quello di cacca di cuore tale ma notte la di tuba si toglie stanza panocca no youtube tour e won't check a crescendo da una parte e poi l'altra è la canalizzatrice i posnei a bordeca panna e testa cascina coprieta trattanti in pratica non risolveremo quindi questi due operatori fanno emergere due tematiche che sono la tematica del guerriero e la tematica dell'intelligenza artificiale e che sono connaturate in lei che fanno parte di lei che sono con natura che nella sessione precedente avevamo visto esistere un clone tombrider un guerriero artificiale e di nuovo queste due tematiche vagano dentro di lei e calamitano questi operatori e traverta stata tematica i signi e tamvi nel solito ma c'è un gato da scegliere cooperatore con voi caposso vabbè io sono estremamente annoiato da questa parte perché tutti questi controlli di guru di youtube di autori di libri non capisco che cosa ve ne freghi non c'è nessun lavoro personale di crescita personale c'è soltanto una ricerca fosse nata di un guru non ha capito lo so per ripetere c'è non c'è nessuna crescita personale c'è solo una ricerca fosse nata di un guru no non sta capendo che c'è solo una ricerca di un guru perché si cerca un guru in modo fosse nato c'è in modo esagitato in modo continuativo io voglio assolutamente trovare solo una guida che mi dia delle risposte non ho raggiunto che ho giocato soggetto come te coppavete sabato facciamo la sua camera da perciò che qui sicuro una star non c'è ok io so quanto tenga la figura del guru monica che avviene che parto c'è via con facciata figure guru monica ok chiamiamo il maestro asceso quello del campo quantico possiamo anche dire il nome ramita la prata traslase metaco finisce anni comis tra coloro mi aspettava tina ora lui è un maestro asceso lui era di lemuria o onde sempre ammesso che esista e sia assistita lemuria lo siamo stati tutti lì siamo passati tutti da lì quindi non è un vantaggio che era un stato pagato fatto fatta c'è tra la muri e schiavo e metà finisce sta stampante oggi ma è esistita lemuria non è esistita non cambia niente fatto che stiamo alla muri e schiavata ma sono cosa tania primo mito disattivato le muri a non conta nulla pierce metà ballone la muri a nizzi ne smaccia secondo mito maestro asceso droghe mit miss veniva stampione asceso a cosa se fosse asceso davvero a qualcosa di superiore rispetto dove siamo noi c'è fatta c'è nessun segno segnale poi nata che già mi siano io ma non tornerebbe indietro a dirci che cosa dobbiamo fare fanni anni poverò c'è tutto e abba pavete cinanza tra beach perché così facendo sta interferendo con noi boston sposta della mita posta interferò fa e questo cozza contro il fatto che è elevato a 3 best fact of e cosa quindi l'unica ragione per cui sta interferendo sta interagendo e interferendo con noi in setene poco l'attore cosa mi interferò è che lui o alcune interferenze che lo manovrano ci prendono qualcosa da torse al bono poi anche interferenze che sanno in storia e questo vale per tutti i maestri ascesi e i guru e to the test che ti diciamo il mestro farò scelgo ma magari mi sbaglio alla mostra c'è me la monica chiamalo vengono insieme rampa e la canalizzatrice di ranta se bevai a un rasan tutta il 90 e chita panico rago canali soia e portano entrambi in mano la croce rossa della massoneria e non so se lo posso dire cosa vuol dire la traduzione del cognome della canalizzatrice per la signora c'è una sviscata i panni cana con la canalizzata si può dire cavaliere cavaliere ok cos'è cos'è che ha scritto prima in skype ti ha scritto una cosa non ha visto sinceramente la società si sa vace atti noto tightrass attacca e che c'è il tasto chat lo vedi basso destra basso destra il primo dei tasti in basso destra ok dice che la sessione deve essere per la nonna in realtà lei non segue nessuno da cinque mesi da quando ha fatto l'altra sessione bene stiamo controllando lei lei è chiesto della sessione e prima di tutto e lei la nonna poi un corollario ha letto la stessa sia la tina vengono le tessere metà come un controllo ii so quasi abbattanto scesa va bene rampa disattivato quello dei campi quantici così li togliamo tutto no della mappa dell'aldilà mentre fai tu ok ma sapessi poco tram tam e tenderò che pano che siamo sacco a proiecti astral ma io mappa astrala hanno tutti delle interferenze legate a un secondo universo combattivo guerriero sessioni ma io interferenze droghe costruzziata attaccata che con falla c'è una nota che con fuori a finito che ci saremmo interferenze finito quello del canale youtube che unisce chakra e il trattamento che lei ha fatto è interferito il punk torima canali e troppo attore tamo concerto scherzo scherzo a crever non testo termine interferenze si da un'entità simile che sembra un po satana però in versione guerriero aborigeno maori tac ma interferenze potono che questi che ci state più come l'antir shatanna all'attacchi con la mananza che trova borgia canna maoressa tachico fornico testo perché unisce chakra che comunque sono delle dei centri energetici naturali perché bisogna unirli e il tutto con un cristallo all'interno della gioca del cuore la cacau sua data cacra santo in stato la nana si porta ma che sta crescendo mi scherzo questo è uno degli esempi della matrix in cui vengono profondamente mescolate verità e bugia to jest taka taka sztuczka matrixa w której to w bardzo taki głęboki sposob sono wymieszane zarówno prawda e fausse vengono usate delle verità per manipolare le persone używana jest prawda potable potan manipulować ludźmi i giuste e corrette si sentita monika scusa poi ripetera si parte da delle osservazioni giuste e corrette si arriva poi a voler portare la persona a una sudditanza czyli zaczynając startano z czegoś co jest co jest prawdziwe ale potem per zmanipulować jedną osobę żeby była potem nam podległa allora la verità è che il chakra del cuore e al centro ed è nel chakra del cuore che si uniscono i chakra superiori e inferiori bravo da mi sto facciamia zeta croce al centro mi sta il tracso quanto non siate pacrenista portano stemmi fasciami è la verità che armonizzare i chakra la frequenza del cuore porta benessere alla persona vita e spravo da strada i vibrati serta fact che dovrò stanno da noi usap fatto è quello che noi facciamo durante le sessioni nel momento in cui alziamo le frequenze e puliamo la persona ma lui cosa fa questa operazione la ottiene attraverso un cristallo che come lei ha notato è affine a un microchip a letta zona robita usavate con la teco crescita uita che ho noto te sobserva vado c'è crescita risposta che con microchipa quindi è uno dei tanti esempi a cui abbiamo assistito purtroppo in questi ultimi anni di sovvertire le cose c'è stai ad un sviluppo quadro fase che mi mamma d'accenti ne ho stati appartamenti per cercare di manipolare persone che comunque sono in cammino spirituale a besta sposo per provare c'è manipolata che ciò soppertra sono stasera sforzo dopo fraco specifico per lei importante che lei comprenda e che lei è vero che non li segue più però c'è lì ancora in testa infatti fa domande su di loro ale toto è stata trasversa che tolata trasformiamo a ok o ma io sì mi slegite hanno temi utopia al minimo fresco po d'avato petani niente che per voli natal artista rimes la picofia il motivo per cui lei ce li ha ancora in testa è che lei deve integrare dentro di sé l'archetipo del guerriero il povo della tagona c'è una maglia tutta posa una mucinata integrava ci sapete l'archetipo vajornica guerriera è quella canalizzatrice che infatti è legata ai a quelli che facevano le crociate ai rosa croco vajornica mi sta panica analizzata orca tank troppo appoggio risposta napoltona da che sposto sistemi trattami sicilina crociate guerriero è questo uomo di youtube che ha dei tatuaggi e un'interferenza di guerrieri del secondo universo voglio finire che mi è stata nostra attore amata che statua il mappa montagna altro che lei ha dentro di sé questa componente guerriera che come abbiamo detto era venuta fuori nel suo clone tomb raider e deve trovare il giusto modo di fare esprimere questo guerriero in modo sano alona musieli stacchi sposob wyrazić tego vojornica którego ma sopia ale f posto taki zdrowe nel momento in cui lei ha trovato il modo di esprimere in modo sano il guerriero non sarà più attratta da questi personaggi i w momento in cui udai se rasi stacola senza governi carta che si trova esporta tenebente potevava dipende posso che vavate e neanche da come posso dirti azioni improvvise azioni incaute i rossi resti cosa che cosa è questa che c'è il nostro una chiesta che è l'acqua sapato va va bene vediamo alla fine se lei parla veramente con gli angeli fa un sogno è sicuro che non siano né dl né elohim i teraz przechodzimy do kolinego punto che si chiama o techanio wacht o te rossi anielski i straconano że nie berito anii stati svetlista anielo chimene boeta si le è stata confusa da questa sua entità grillo parlante che le ha confezionato questo sogno to tambo a taka zmylka ze strane teistota teco scherz taktore takvash ni zanzana 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 pacca valita o tom tom pravda stansia infatti questa entità grillo parlante le dice no stai sicura che non sono edl e tata faccia c'è stata listata i movi bond per nasa tonia sono stati svetlista con fermezza questa voce le dice anche tu sei un angelo fra di loro e sta con questa campagna secondo anni mi tommovese tettersi e stagione un po mezzo limita però di nuovo del sogno c'è questo elemento del guerriero che è il transformer che ci ha raccontato alle snovi stanzini è stato titan component stata posta stagò non voglio finire i cattori mettete il transformer ok quindi è il grillo che ha un dna di che tipo tricata jones tanti scherzi e che on madenà io vedo che in realtà è una mantide vita tecnoprata strato certo ma glisca va bene ok andiamo con la tina e cluster è stata la sezione da con la strasa tina mi fa vedere solamente un paio di guanti da pugile poca sui amiche non mi fa vedere che rispetto all'altra volta lei ha ripristinato qualche vita in più in cui era combattente perché ha bisogno proprio di risolvere dentro di sé questo aspetto di armonizzarlo meglio lei sta incominciando a capire che il centro è lì da risolvere c'è quello il nodo da sciogliere e poi stanno avvenendo c'è rosa e niente li ha buttati dentro un portale di chiara bene cosa ci pare anche affrittata portavolta finita nago ad eterno si l'ha messo e andiamo all'avatar io dai a me si andava tarà vediamo se ce n'è un pezzo se c'è ancora se non c'è niente vediamo cosa c'è cosa faccio non c'è famiglia c'è che sfragmante cova taraccia di altamente ma è sembra il tirapugni però rovesciato che è la testa poi tirapugni è quello che si usano appoggiere no cosa di ferro che si mette in queste quattro dita no spiega ha capito bene dita il sacco intendevo quella è forse come se fosse la testa dell'avatar quella è rimasto quello io sto produzione da capito buogo a fonte corpata l'attacchetto stracata non so stavo via tutto apre per non stico tassi scorso fama i tamburo finissime all'aterno che se l'ha fatto soprivata ok nuova frequenza e a caist terra si traccia latina 956 miliardi c'è gente spinge 16 miliardi da 40 che era davanti tardi essi nuova consapevolezza poi sono scelta morti terrasse 289 cresce la scelta di 20 nuova percentuale di tuccia non di ps tra tanto adesso 64 terrasse sessi santo cittare però tantra stato vite precedenti 807 la scienza c'era cervello tra tanto sopana con mosco 10.2 l'onerta basso ma non era neanche chissà che rispetto alle ultime gli ultimi dati otto e poco far di meglio 10 è già un ostacolo molto alto ok il grillo l'entità il senso e tutte le interferenze con eventuali abduction eventuali impianti ci sono ancora stata mentalna sensi e che cosa che in interferenze ancora facendo l'inizio a colpi che si sta no ma messaggio finale che lei lascia a se stessa e conservate la sfida nostra non sapere che c'era che ho preso stare in merito a questa sua tendenza a cercare un guru lo stiamo scostando i tendenzi che vanno a 5 curo e non solo in interco non solo in merito a questo io sono la domanda io sono la risposta io sono il guru io sono lo studente via est angolo io sono studente io sono il guerriero io sono la vergine io sono tutto e l'ho capito io sono i tuoi un guru monica monica trattata ma scuro c'è il più sì come me stessa se ci piacciono per fare la battuta anche io un guru si chiama lucio car si non toccata ma con la scena nata facello giocarsi va bene come vedi latina chi è che vi gesta la satina illuminata ha messo proprio decisamente un tassello grande in più della sua conoscenza della sua comprensione bar giocato a cresero scelta o nascere di stack usa scava nuova un porti e soli non porti a nuova va bene pronta a tornare se mi casa fatta povrato